Ho pensato a questa idea che tutti tornano a casa e questi momenti, queste poche ore che noi abbiamo, dalle 9 fino al momento che andiamo a letto, sono i momenti più belli di tutte le vite, di tutti. Il momento che noi possiamo lasciare il mondo fuori, ripensare tutto quello che è successo nel giorno, nella settimana, però a casa. E questa idea di casa ho voluto portarlo anche in tv. La meraviglia esiste solamente quando c'è la luce e anche il buio. Non vogliamo fare meglio dell'anno scorso, vogliamo fare con un cuore sincero, un cuore grande e un cuore generoso come l'anno scorso. E questo è l'unico compass che io ho e che i miei autori abbiamo per trovare quello che dobbiamo fare per la prossima stagione.